Oggi è un momento importante perché abbiamo qui con noi rappresentanti un po' del mondo ambientale appartenente a tanti paesi, tante associazioni e tante istituzioni. L'Italia è depositaria di una grande cultura ambientale e abbiamo anche il dovere di portarla in giro per il mondo ma non è una forma di colonizzazione, è un confronto con altre culture, è una condivisione dei temi ed è una condivisione degli obiettivi. Ovviamente la cultura è la base di ogni scelta. Grazie.